Perché abbina i colori ai profumi, in mostra 80 opere d'arte. Si chiama Profumi di Primavera ed è uno degli appuntamenti organizzati dai soci di Arte ad Arona a Spazio Moderno. Sabato 19 alle 17 l'inaugurazione di una collettiva di primavera. Abbiamo invitato gli oramai quasi 50 soci di Arte ad Arona a darci il meglio della loro produzione, che abbia come soggetto i fiori. Però non ci siamo fermati ai colori, quindi agli occhi, ma riteniamo, come è già successo 3 o 4 anni fa, di riempire una parte dello spazio moderno con le erbe aromatiche. Quindi non solo guardare, ma anche annusare, sentire, quelli che sono i sapori delle piante aromatiche. Ce ne sono alcune particolari in questa occasione? Ce n'è una che non solo è da vedere, non solo è da annusare, ma è da gustare. Si chiama Stevia ed è l'alternativa casalinga allo zucchero. Quante saranno le opere esposte dei soci di Arte ad Arona qui a Spazio Moderno? Allora, in tutto sono un'ottantina di quadri e non solo quadri, ma anche fotografie e sculture. Sono tantissime le attività che ormai una cinquantina di soci fanno per tempo libero, per passione e anche tanti professionisti. Sì, abbiamo pochi professionisti direi, si occupano di tutte le altre attività, però come potete notare i risultati ci sono e come. Da quanti anni seguite questo spazio e curate questi eventi che stanno piano piano avendo un grande successo? Abbiamo festeggiato quest'anno i dieci anni dell'attività di Arte ad Arona. Cos'è? Quindi un lungo periodo. Spazio moderno che viene utilizzato ed apprezzato da tanti proprio per la sua ampiezza e come è collocato anche da tantissimi artisti. Ci saranno poi delle manifestazioni per esempio legate a matrimonio e casa verso la metà di maggio. Poi ci sarà a seguire la premiazione di un concorso dedicato ai bambini. Quindi facciamo dipingere i bambini elementari, poi i ragazzi delle medie, quindi veramente tante attività.